Iniziamo con il foil di essence. Mi do un notto schieno. Continuiamo con un altro di essence e con un cambio di piatta. Uno, do, un quattro. Poi proviamo le stesse lampe di astra, con un 6, e poi come sempre con le piatta, normale, finito, e il 6. Continuiamo con il video 7, ma vi bello oggi, al di mostro, carino, do, un 7. Continuiamo con il senni glost di dimension. Senni glost di dimension. Non esiste. Due. Due piante. Sempre faccio quello. Però... Un minuto. Due sempre. Andiamo avanti con... I nostri. Bellissimi. Oscar. E' un dialetto brutto che devo fare. Bello! Nove per me. Andiamo con quello di essence. Sette. Quello di bella oggi. E这是u? Okey... L powerful assistant. Scusate. Five. Si, non mi piace... E quindi, con il correctorio per un secondavisimo. If you click off on a finger, click off on to finger. No, not rest obstinate. Lehan stance. Dai there £3, non mi piace. Let me think this is the closest way of my ear. No, I'm honest, itк' kay. Yes, ma te itk like this. e infine il blush carino gli do sette e mezzo mi stavo dimostrando altri due il gel sopra a ciglia di astra due mi piace poi il gel sopra a ciglia di astra quattro sto dimenticando questi del lato questo il glitteroso il nove e mezzo e infine questo viola dieci stupendo spero che vi sia piaciuto e ciglia al prossimo video ciao 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 ciao